Buongiorno, buongiorno, allora siamo sul lago, andiamo a fare un giro sul lago e poi stasera ferrara basket festival, siamo a ferrara, siamo un po rilassati a cabottona, un po Paolo ha fatto il bagno ci voleva io, adesso facciamo il check in, poi andiamo a trovare la postazione eccetera 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 ciao, ciao, ah bene, allora, bezziono bellissimo, allora, grazie, allora prendo questi io e vi do i vostri classi eccoci Ferrara, Ferrara Basker, siamo qui dal castello, davanti al teatro hanno detto grazie a tutti mi ha fatto in tempo vedere cosa facevano ciao grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.